Ma va completata? Assolutamente sì. Contro questa ondata di anti-europeismo noi dobbiamo rilanciare le ragioni dell'Europa federale. L'unica salvezza per questi 500 milioni di persone che sono ancora la prima economia del mondo ma che rischiano di essere marginalizzati. Siccome non vogliamo fare la fine di un appendice geografico dell'Asia, come veniva ricordato da un grande scrittore, io credo che l'Europa possa solo andare verso l'Europa federale. Va completata, non va cambiata. Questa Europa è importante. Ci ha dato la pace, ci ha dato lo sviluppo, ci ha dato l'indipendenza, ci ha dato la libertà, ci ha dato moltissimi diritti civili. Io credo che noi dobbiamo ancora difendere questo spazio di libertà e di giustizia nel mondo, però bisogna completarlo verso l'Europa federale.